Anche quest'anno Borgotaro ha organizzato con Lega Ambiente, dando proprio il patrocinio a questa manifestazione internazionale e mondiale Puliamo il Mondo. E sono stati circa 70 i ragazzi, gli alunni della terza media di Borgotaro, che vi hanno preso parte con entusiasmo. Sono stati circa 70 gli alunni della terza media di Borgotaro che hanno partecipato alla manifestazione Puliamo il Mondo, promossa da Lega Ambiente con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Un'iniziativa che è andata oltre la semplice raccolta di rifiuti abbandonati e che per i ragazzi è stata un assommarsi di diverse esperienze. Innanzitutto i ragazzi hanno potuto fin dalla prima mattina essere insieme, conoscere i volontari. E anche questa è una perla educativa che i ragazzi possono vedere sul campo, persone di tutta l'età che si prestano per accompagnarli durante i percorsi. Poi hanno potuto vedere i percorsi, hanno potuto vedere con i loro occhi la situazione di Borgotaro in varie parti del paese. Il nostro compito come Guardia Ecologica è di aiutare i ragazzi a comprendere tutto ciò che ci circonda, specialmente l'ambiente. I ragazzi sono importanti per noi perché saranno il nostro futuro, quindi quando uno va anche nel bosco che trova dei rifiuti. I ragazzi sono molto sensibili, tanti hanno detto ma io vado per funghi e trovo sporco e me lo metto nello zainetto tutto ciò che trovo. Sono molto sensibili i ragazzi e io vorrei anche che tanti genitori di questi ragazzi di terza media che noi abbiamo accompagnato fossero un po' più sensibili, cioè potevano venire anche i genitori con noi e anche la popolazione di Borgotaro. Io questo appello l'ho già lanciato un'altra volta. Per effettuare l'operazione di pulizia i ragazzi sono stati divisi in tre squadre. Due hanno ripulito la pista ciclopedonale sulla sinistra del Taro, una a Monte e l'altra a Valle della Passerella dei Vigili del Fuoco, mentre la terza squadra ha raccolto i rifiuti abbandonati nel parco battaglione Tolmezzo e lungo la scarpata della superstrada tra la baita degli Alpini e il campo sportivo Bruno Capitelli, per terminare ripulendo il cortile attorno all'edificio scolastico di Piazzale Pedrini-Beccarelli. Abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi, specialmente intorno alla scuola, perché è il luogo dove loro vivono giornalmente per nove mesi all'anno. Quindi loro si sono resi conto che anche se le altre persone gettano dei rifiuti, non è educato. Sono molti anni che partecipiamo a questa iniziativa, io direi che è un'esperienza importantissima. Abbiamo avuto la fortuna di avere il tempo favorevole e abbiamo avuto la fortuna di avere il nostro paese, la nostra gente accanto, che ci ha accompagnato attraverso i luoghi che spesso percorriamo, dove siamo incamminati, dove andiamo per le nostre passeggiate. Ebbene, questi luoghi noi li abbiamo guardati, li abbiamo ripoliti e li abbiamo riconsegnati nel nostro possibile e al nostro paese. Avete mai sognato o pensato di vivere una serata esaltante all'insegna del mistero? Bene, se la vostra risposta è sì, sabato 12 ottobre, a partire dalle ore 15 siete tutti invitati al castello di Bardi in occasione dell'evento Una Giornata da Ghost Hunter. A partire dalle 22.30 due gruppi di ghost hunting attivi in Italia vi accompagneranno alla scoperta del millenario bastione, teatro di svariati fenomeni che gli hanno fatto valere la fama di uno dei castelli più infestati in Italia dai fantasmi. Si terrà una vera e propria caccia ai fantasmi con l'ausilio di sofisticati strumenti per il rilevamento dei campi elettromagnetici e della temperatura e di telecamere a infrarossi per documentare eventuali manifestazioni paranormali. Dovrete partecipare ovviamente all'incontro pomeridiano perché nel corso di questo incontro saranno estratte 5 persone tra il pubblico che potranno partecipare attivamente all'indagine notturna insieme ai due gruppi. Il programma della giornata prevede l'inizio alle 15 con la presentazione al pubblico dei gruppi GIAP di Roma e GHP di Puglia, l'introduzione alla storia del castello, all'attività dei ghost hunters e alla strumentazione utilizzata, alle 16 estrazione dei 5 partecipanti alle indagini notturne e dalle 22.30 fino alle 3 del mattino svolgimento dell'indagine nei locali del castello. Il costo dell'ingresso è 5,50 euro per gli adulti, 3 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni. L'ingresso per i bambini al di sotto dei 6 anni è gratuito. Per saperne di più chiamate il 393-0402-061 o il 392-3189-953. Ed eccoci alla pagina sportiva, ci occupiamo del tradizionale torneo Baduini-Giraudo che scatta domani. Continua il cammino di avvicinamento all'inizio ufficiale del campionato di Serie B per la nuova Valtarese 2000 che vedrà impegnata la formazione del presidente del Nevo subito in trasferta sabato 13 ottobre in quel di Bologna contro la Fortitudo Rosa. Per preparare al meglio la nuova stagione, ma soprattutto per ricordare due importanti dirigenti della società, domani e domenica, 5 e 6 ottobre, andrà in scena l'ormai classico torneo Baduini-Giraudo. Nella giornata di domani, a partire dalle 19, si sfideranno nella prima semifinale Pallacanestro Lodi e la formazione Under-19 del Basket Parma, mentre nella seconda gara, in programma alle 21, la Valtarese 2000 del coach della Pina sarà opposta al cavezzo dell'amico Giancarlo Tampellini. Domenica a pomeriggio, a partire dalle 16.30, la finale per il terzo posto e a seguire alle 18.30 la gara che assegnerà il titolo. Il coach della Pina in questa prima parte di stagione ha dovuto fare a meno di Cecilia Camisa alle prese con un fastidioso problema al piede, ma potrà schierare due nuovi arrivi, ovvero Enrico Abini, di ritorno a casa dopo sette anni trascorsi alla Magic Parma, e Tina Bogoyevic, direttamente dal settore giovanile del Basket Parma. Per gli sportivi borgotaresi, queste due giornate saranno il momento giusto per vedere all'opera la nuova formazione che si appresterà ad iniziare il campionato di Serie B regionale. Nella gara di domani il coach affiancherà alle ormai storiche presenze di Silvia Schianchi e Carola D'Ambros, le varie giovani che vorranno subito mettersi in mostra davanti al proprio pubblico. Tutta la dirigenza si attende a un pubblico grande, degno dell'occasione, sia per vedere un buon weekend di pallacanestro femminile, ma soprattutto per ricordare due persone che hanno dato molto al bellissimo sport valtarese. Sarà un fine settimana purtroppo brutto e questo è un peccato perché come avete sentito e sentirete anche nelle TG di domani ci sono diversi appuntamenti in cartellone in vallata. Comunque il meteo ci dice molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse che sul settore appenninico potranno assumere carattere di forte rovescio. In serata attenuazione dei fenomeni, le temperature minime sono in discesa, valori tra 7 e 10 gradi, in discesa anche le massime, valori tra 13 e 16 gradi, 20 saranno moderati. Vi lascio con la programmazione e serale di RTA che comincia alle 20 e 35 con Salute e Società, alle 20 e 50 VIP Show Beach e alle 21 e 30 Epoca Che Storia e poi il nostro TG. Grazie come sempre per essere rimasti con noi, buona serata, torniamo domani. Grazie a tutti.